Annunziato, diciamo che la scuola è finita, è finita con un sorriso, venivate da una stagione sicuramente complicata, però quanto è importante chiudere con una vittoria così importante, così di prestigio, perché avete di fatto evitato all'ACC Roma l'ingresso ai play-off, anche se non dipendeva completamente da loro. Sì, sicuramente è una gioia finire così, un po' di dispiacere per la stagione, perché la staff, anche noi sappiamo che potevamo fare meglio, ma sicuramente è sempre bello finire qua in casa, soprattutto vincere una partita importante come questa. Poi dopo un periodo un po' buio a livello di risultati, un giornale di ritorno che vi ha visti vincere soltanto in tre occasioni, questa è la quarta soltanto, in tante partite, tanti pareggi, pochi pareggi e tante sconfitte, però oggi io ho visto un Trastevere Gagliardo, un Trastevere forte, duro, che non l'ha mandato a dire agli avversari. Sì, oggi abbiamo giocato veramente bene, con un sacco di grinta da parte di tutta la squadra, di tutti i miei compagni, quelli che hanno iniziato ad abituare e quelli dopo, sicuramente lo staff starà felice per questa partita, ma sappiamo che dobbiamo lavorare e vedremo cosa faremo nei tornei in futuro. Ultima cosa, poi ti lascio andare, che cosa ti ha dato e che cosa pensi ti possa dare ancora il Trastevere? Trastevere penso che mi dia un futuro incredibile, so che io vorrei continuare a girare qua e continuerò fino a fare l'opera. Grazie Enunziato e in bocca al lupo per il futuro allora. Grazie, grazie.